Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce. Sono le parole scolpite da Giuseppe Ungaretti nella sua poesia per i morti della resistenza. Il messaggio della libertà contro le dittature ribadito nelle cerimonie istituzionali, sobri a causa delle restrizioni anti-covid, che si sono svolte in tutta Italia per il 25 aprile, festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. A Campobasso la deposizione di una corona dall'oro al monumento dei caduti in piazza della Vittoria, la presenza del sindaco Roberto Gravina, dei rappresentanti della prefettura e dell'Ampi Molise e l'associazione Partigiani. Festa di libertà di tutti gli italiani, ora più che mai serve unità, ha detto nel suo messaggio il presidente della Repubblica, Mattarella. Resta comunque la giornata, quella più importante che rappresenta appunto la liberazione. Quest'anno la leghiamo, ancora una volta la pandemia però, insomma è bene tenere distinta al di là delle metafore perché è un giorno importante, la memoria non la dobbiamo mai perdere. Ora è sempre resistenza, è sempre quello il messaggio, è il messaggio che i nostri partigiani portavano nel cuore, sulle spalle, messaggio con il quale hanno costruito, hanno contribuito a costruire, a fondare la nostra Repubblica. Oggi è un messaggio di vita, di sopravvivenza. 130 morti, 130 è l'ultima delle cifre dei morti del Mediterraneo. Oggi il messaggio della resistenza è di vita, di libertà, di resilienza alla pandemia, ma di accoglienza di chi non soltanto della pandemia è vittima, ma di guerre, di immigrazione forzata e di troppo astro. Presente anche Gilberto Fazzini, padre di Gian Mario, di recente scomparso e attivo nella lotta per i diritti umani e per i principi di libertà e democrazia. e Gian Mario si chiamava anche il fratello di Gilberto, partigiano ucciso dai nazisti. Sì, ho trovato appena la forza di venire qua perché sia mio fratello che mio figlio me l'hanno suggerito, quindi però ringrazio tutti e cercate di tenere sempre presente questa giornata per tutti, quindi grazie. E nel ricordo di Gian Mario Fazzini anche la manifestazione invia martiri della resistenza, iniziativa di diversi cittadini con ideali antifascisti a cui hanno aderito, ma la testa associati Casa del Popolo, Arci, fermenti liberi per celebrare la giornata della liberazione. Il messaggio è semplice, non dimenticare mai, sembra banale ma è quello, non disinteressarsi mai alla politica, non disinteressarsi mai al nostro Stato, all'Italia che è stata costruita da persone che hanno versato il sangue. Inaugurato il murale donato dall'artista Claudia Romagnoli, conosciuta come Croma, agli abitanti del quartiere. Abbiamo deciso di rappresentare Giovanni Porfirio e Mary Naiman, che facevano parte della banda partigiana di Trivento, una delle poche bande locali partigiane del Molise, e abbiamo rappresentato anche la loro base operativa, dal settembre 43 al gennaio 44, che è la morgia di Pietrafenda, dove appunto loro vivevano, si appostavano e programmavano le loro azioni. Volevamo riprendere una storia locale, perché è dal proprio territorio che bisogna ripartire, per costruire una memoria collettiva presente e futura, applicare la resistenza oggi e domani in tutte le azioni del nostro quotidiano. Momento di memoria collettiva, con le letture e gli interventi, tra gli altri di Flavio Brunetti e Fabrizio Nocera, docente Unimol. Con legamenti, poi con associazioni ambientaliste e sociali a Monte Cilfone, Bosco Corundoli, e con chi a Isernia è attivo per la difesa dell'ex lavatoio.